Buon pomeriggio dal telegiornale, in primo piano c'è l'economia con il bilancio di Confapi, il bilancio del 2023, quindi uno sguardo anche al 2024 con il presidente Cordua che ha tracciato un po' quello che è stato questo anno che si chiude. Salutiamo un 2023 che sicuramente ha presentato qualche criticità ma che ha permesso come sempre ai nostri imprenditori di fornire le risposte diciamo più adeguate. Abbiamo in proiezione secondo me un semestre anche del 2024 che presenterà qualche criticità ma speriamo poi che tante situazioni a partire da quello che sta succedendo a livello geopolitico possa migliorare perché ci sia poi anche una ripresa verso la fine del prossimo anno. Qual è la preoccupazione maggiore? Sono sostanzialmente direi i tanti cambiamenti, si parla di policrisi, quindi tante situazioni diverse che arrivano ai nostri imprenditori e richiedono risposte altrettanto rapide e precise. Questo non è semplice, si parla di percorsi di sostenibilità, si parla di digitalizzazione, si parla di intelligenza artificiale, tanti fattori, tante competenze e le competenze devo dire non sempre ci sono, c'è un problema anche demografico, non si trovano i giovani. Il ruolo dell'associazione datoriale, dell'associazione di categoria è sicuramente quello di cercare di aprirsi, fare sistema. Come stanno le imprese bresciane? Le imprese bresciane devo dire che comunque sono in salute, hanno capito che i cambiamenti sono tanti, sono forti, sono repentini, quindi in questi anni si sono meglio patrimonializzate. Diciamo che, auspichiamo che comunque, nonostante il periodo che evidentemente non sia particolarmente complicato, ma ha delle criticità, i nostri imprenditori non aspettino semplicemente che l'inflazione ritorni sotto controllo, che i tassi di interesse diminuiscono, ma che comincino a investire. I tassi di interesse che al momento non diminuiscono rimangono invariati per la seconda volta, la decisione è della Banca Centrale Europea. I tassi di interesse dell'Eurozona restano invariati. Nell'ultima riunione del 2023, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di non intervenire. L'inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo, secondo la BCE. In base alle ultime proiezioni formulate dagli esperti dell'eurosistema, l'inflazione dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all'obiettivo del Consiglio Direttivo del 2% nel 2025. Si stima un'inflazione complessiva in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Sono state riviste al ribasso le proiezioni per il 2023 e soprattutto per il 2024. Il Consiglio Direttivo ha l'obiettivo di assicurare il ritorno tempestivo al 2% a medio termine, in base alla sua attuale valutazione, ritiene che i tassi di interesse e di riferimento siano su livelli che forniranno un contributo sostanziale all'obiettivo. I tassi resteranno su livelli restrittivi finché necessario. E rimaniamo in ambito economico con l'Istat nel terzo trimestre, ancora segnali positivi per l'occupazione. Nel terzo trimestre di quest'anno aumentano nel nostro Paese le ore lavorate e il PIL. Lo rileva l'Istat, secondo cui nel periodo gli occupati sono cresciuti di 65.000 unità rispetto al trimestre precedente. L'incremento dei dipendenti a tempo indeterminato e dei lavoratori indipendenti ha più che compensato il calo di quelli a termine. Il numero di disoccupati è sostanzialmente stabile, mentre si rileva un calo dello 0,7% degli inattivi. La percentuale di occupati sale al 61,5%. Il tasso di disoccupazione è stabile al 7,6%. Quello di inattività cala al 33,3%. Il tempo pieno cresce più dei part-time. Il ricorso alla cassa integrazione si è invece ridotto a 6,1 ore ogni mille lavorate. E adesso la cronaca con le indagini della DIGOS, sindagini a 360 gradi, non viene esclusa nessuna pista per risalire ai mittenti della lettera anonima con minacce gravissime alla sindacalista bresciana della CISL. Il contenuto dettagliato della missiva non è noto, basti sapere che conteneva delle gravissime minacce rivolte a una sindacalista iscritta alla film CISL di Brescia. La lettera anonima è stata recapitata nella giornata di mercoledì in una delle sedi decentrate della sigla sindacale. Immediatamente la segreteria della federazione dei metà meccanici CISL ha informato le forze dell'ordine in questura sporgendo denuncia. Ora la DIGOS sta indagando per provare a risalire al mittente della lettera. La FIM di Brescia, unitamente alla CISL provinciale, fanno sapere dal sindacato, esprime solidarietà e vicinanza alla sindacalista fatto oggetto di assurde minacce, respingendo con fermezza qualsiasi intimidazione allo sviluppo del confronto democratico. Un altro infortunio sul lavoro, la vittima è un 55enne, non è in pericolo di vita ma è certo in gravi condizioni. Vediamo. Non sarebbe in pericolo di vita ma è stato ricoverato in gravi condizioni l'operaio di 55 anni che giovedì mattina è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a Salò. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 nello stabilimento della Fonte Tavina in via provinciale a Cunettone di Salò. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato in un macchinario e avrebbe riportato una seria ferita alla gamba. Immediata la chiamata ai soccorsi con l'arrivo di un'ambulanza dei volontari del Garda e anche di un'automedica. Dopo le prime cure sul posto, l'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale civile di Brescia. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Salò per le indagini e i tecnici della TS di Brescia come prassi per gli infortuni sul lavoro. La politica ora con il Bosco Caffaro che scalda gli animi del centro-destra e del centro-sinistra. Un voto e risposta tra la sindaca, Castelletti, e il principale esponente dell'opposizione, Fabio Rolfi. Nemmeno il tempo di sorridere per l'assegnazione provvisoria del bando di bonifica che si accende una nuova polemica sulla Caffaro. Da un lato Fabio Rolfi, dall'altro Laura Castelletti. Al centro l'ipotesi di creare un bosco urbano. Era indicato in modo molto chiaro a pagina 4 del programma che Laura Castelletti ha presentato agli elettori pochi mesi fa. È l'attacco di Rolfi, appreso che il bosco non dovrebbe vedere la luce. Ribadisco, pertanto, la richiesta di costruire un comitato di esperti. Serve aver coraggio e voglia di affrontare sfide che cambiano la città. Secondo il consigliere di centro-destra, abbandonare questo progetto significa aver ingannato i cittadini, aver poca lungimiranza e forse anche spalancare la porta di interessi diversi su quelle aree. Io francamente, conclude, voglio confidare che non sia così. Non ci mancano né coraggio né lungimiranza e certo non abbiamo paura di innovare. È stata la pronta replica del sindaco. Ma il progetto del bosco urbano, come inteso dal consigliere, che coinvolgerebbe terreni privati oggi a vocazione agricola, non è fattibile per diverse ragioni. Come già ribadito anche dal commissario. Castelletti aggiunge però che nonostante il progetto del bosco sia tramontato, il Comune è già al lavoro con il commissario e con la Regione per trovare differenti e più efficaci soluzioni che verranno condivise a tempo debito con i soggetti coinvolti. C'è una curiosa indagine che riguarda le regioni che sentono di più il Natale oppure, detto tra virgolette, hanno ossessione del Natale. La Lombardia è piazzata decisamente bene. Quali sono le cinque regioni italiane che amano di più il Natale? A darci una risposta è Olidu, il portale di prenotazione di case e vacanze che ha condotto questo studio per svelare le regioni italiane più ossessionate dal Natale, analizzando le ricerche effettuate su Google durante l'ultimo anno. In particolare sono stati presi in considerazione 10 parole chiave maggiormente associata alla ricorrenza come Natale, Alberi di Natale e Presepe. La regione più amante del Natale è la Lombardia con 120.000 ricerche totali, seguono poi Lazio con 60.000 ricerche e Trentino Alto Adige che chiude il podio con un volume di ricerca di 11.000. In classifica la Campania al quarto posto e le Marche al quinto, mentre a livello europeo i top 5 paesi più ossessionati del Natale sono in ordine Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Norvegia ed Irlanda. È già attivo il piano neve 2023 per Brescia, ovviamente per Brescia città. Tutto è pronto ma poi come vedremo tra poco dalle previsioni insomma può attendere la sua applicazione. È scattato da poco più di un mese il piano neve che continuerà fino al 10 marzo 2024 per garantire la sicurezza alla popolazione in caso di nevicate e gelate. Come ogni inverno, Aprica e il Comune hanno infatti pianificato tutto quello che serve per fronteggiare questi eventi. In particolare sono già state immagazzinate 2.700 tonnellate di salgemma, 500 tonnellate di sabbia e 2.000 tonnellate di miscela sale-sabbia. Inoltre Aprica mette in campo 132 mezzi spalaneve e 219 fra conducenti, operatori manuali e coordinatori. Il piano, che si articola in tre fasi, prevede la prima in cui, in previsione di eventuali nevicate o gelate, si spargerà sale e sabbia in 32 punti sensibili della città. La seconda, che si attiva nell'imminenza di nevicate con la comparsa dei primi fiocchi, prevede l'intervento di altri 11 veicoli dotati di lama e spargi sale pronti ad intervenire. Ed infine la terza, che in caso di nevicate continue, vede l'intervento di mezzi sgombraneve. La novità di quest'anno è che in caso di criticità la prefettura di Brescia può disporre la chiusura di uno o più tratte autostradali in una o entrambe le direzioni di marcia. Inoltre, il piano dedica in particolare attenzione alla metropolitana, garantendo la pulizia non solo degli ingressi alle stazioni, ma anche sugli accessi alle aree limitrofe e ai parcheggi. Un focus è dedicato anche ai mercati rionali e al mercato del sabato in piazza Loggia e in piazza Vittoria. Il comune ha poi comunicato delle buone prassi da seguire in caso di neve o ghiaccio. Tra i consigli troviamo il tenere in casa una pala, spargere il sale davanti all'accesso di casa o al garage dopo aver rimosso la neve, non gettare la neve rimossa sulla strada per non aggravare il lavoro dei mezzi spalaneve, non versarci sopra dell'acqua e soprattutto cercare di limitare gli spostamenti in auto non necessari. Un piano a neve che è già pronto ma può attendere perlomeno per i prossimi giorni. Sentite le previsioni di 3B. Un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo dalle mappe delle anomalie positive e negative sul nostro globo. Possiamo vedere come la view di Settivana ha visto le temperature sensibilmente positive sul comparto europeo meridionale, addirittura martedì toccati 29.9 a Malaga. Quindi temperature pienamente estive, ma ahimè siamo proprio nel clou dell'inverno. Cosa sta succedendo? Perché abbiamo queste correnti da ovest, dall'oceano che raggiungono tutta l'Europa meridionale e quindi aria molto mite che interessa anche la Spagna e il Portogallo. A nord delle Alpi invece prosegue il flusso di correnti umide e più fredde dal nord Europa verso l'Europa centrale con delle precipitazioni, delle perturbazioni. Una perturbazione nelle prossime ore apporterà ancora pioggia al centro sud e poi domani la ritroveremo sul medio adriatico e sulle regioni meridionali. Migliora invece domani al nord sulle centelle tirreniche Sardegna con bel tempo. Andiamo a vedere quello che succederà per quanto riguarda il weekend. Bello un po' dappertutto, a parte la variabilità sabato recidiva sull'Apennino meridionale e sulla Sicilia, con i miti di piovaschi, belli invece al centro nord, a parte foschie e nebbie in Valpadana di notte e mattino. La nuova settimana vedrà un super anticiclone da ovest interessare mezza Europa, quindi lunedì e martedì, fase stabile per tutto il nostro paese con le temperature in quota e insensibile aumento. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trevi Meteo. Ed ora invece vi porto sul nostro giornale online per due appuntamenti che vi segnaliamo per questo weekend. Il primo è nella giornata di domani, eccolo qui a Castegnato, si premiano i migliori abbigliamenti natalizi, quindi è un senz'altro divertente e proseguirà anche domenica 17 dicembre. Torna per l'ottava edizione il Natale dello Sportivo con il suo concorso di abbigliamento natalizio, una vera e propria camminata di Babbi Natale in cui il pio originale sarà premiato. Appuntamento per questo domenica 17 dicembre, le iscrizioni aperte sabato 16 dalle 9 alle 12 al mercato comunale. A tutti gli iscritti della corsa sarà offerto un buffet natalizio a base di Pandoro e Panettone ad accompagnare la serata, ci sarà la musica e l'intrattenimento di Radio Bruno. E poi invece domenica, eccolo qua, i mercatini di Natale, gli artisti di strada vi aspettano a San Paolo, un appuntamento da non perdere, fra l'altro già il titolo è molto simpatico, ma ma che bei, così vengono chiamati i mercatini di Natale delle comune di San Paolo che allieteranno la giornata di domenica. un'occasione per acquistare quei regali natalizi che non si è ancora avuto il tempo di comprare, ma non solo. Oltre alle bancarelle si potrà festeggiare in compagnia con la musica di Radio Bruno gli artisti di strada pronti a intrattenere e divertire. Quindi appuntamento domenica con queste due iniziative legate al Natale. Sono tantissime, proprio per questo vi ricordo che sul nostro giornale online e livebrescia.tv basta entrare nella sezione eventi che trovate, eccola qua, nella home page. Cliccando su eventi e lifestyle trovate tutti gli appuntamenti di Brescia e provincia che riguardano le iniziative, soprattutto del weekend di iniziative natalizie. Stesso discorso anche sul nostro profilo Instagram con due menu per gli appuntamenti e per il Natale. Vediamo allo sport, invece parliamo di AN Pallanuoto Brescia che ha chiuso il 2023 con l'ultima partita, un'ultima vittoria e poi il tutto riprenderà a febbraio. Si è chiuso con una vittoria il 2023 della AN Brescia, un successo netto per 6 a 11 in casa della Deaccher Bologna. Dopo un primo quarto equilibrato chiuso sul 3 a 4, i ritmi calano ma alla fine del terzo periodo il vantaggio dei Leoni è di quattro lunghezze. Negli ultimi otto minuti arrivano solo le reti di dolce e di luongo che sanciscono così il finale e i tre punti conquistati. Termina quindi nel migliore dei modi un anno indubbiamente non semplice per le calottine bresciane, un anno caratterizzato da un finale della scorsa stagione deludente, uscite in attesa dalla Coppa Italia e dalla Champions, sconfitta senza appello o quasi in finale scudetto e dalla rivoluzione estiva iniziata con il ritiro di Capitan Presciutti. Il nuovo corso, giovane e inesperto ha avuto bisogno di un giusto periodo di rodaggio per iniziare ad ingranare ma l'importante è che alla fine ci sia riuscito. Gli obiettivi sono sostanzialmente stati raggiunti, passaggio del turno in Champions League e terza posizione in campionato. Ora una lunga, lunghissima pausa invernale. I club non torneranno infatti a giocare fino al 24 febbraio 2024. In mezzo ci sono l'Europeo e il Mondiale in un anno già di per sé congestionato verso le Olimpiadi Parigine. Alla ripresa non ci sarà il girone di ritorno, bensì una strana formula che sancirà l'assegnazione dello scudetto e le salvezze in due round separati. Il pool nobile vedrà sfidarsi le prime sette e quindi anche la N in un girone all'italiana con il mantenimento dei punteggi ottenuti fino ad oggi. Al termine, le prime quattro disputeranno i play-off. È tutto, mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale. Le notizie non si fermano, continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online e live Brescia.tv eccolo, raggiungibile come sempre sul vostro smartphone. Trovate anche la diretta del canale 181 delle digitali terrestre, 181 visibile in tv nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. C'è la nostra app che vi ricordo che è completamente nuova anche nella grafica, scaricata e gratuita da Apple Store o da Google Play. Trovate appunto il sito, i social e tutto il modo per entrare in contatto con noi. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale. Se volete ci rivediamo alle 19 con l'edizione della sera. Buon pomeriggio. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.